un versetto in marco 16 il versetto 7 ma andate a dire ai suoi discepoli e a pietro che egli il signore gesù sarebbe vi precede in galilea la lo vedrete come vi ha detto marco 16 7 prendete giovanni 21 adesso dal versetto 14 ora questa fu la terza volta che gesù si fece vedere dai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti dopo che ebbero mangiato gesù disse a simon pietro simone di giona mi ami tu più di costoro e gli rispose certo signore tu lo sai che io ti amo gesù gli disse pasci i miei agnelli gli chiese di nuovo una seconda volta simone di giona mi ami tu gli rispose certo signore tu lo sai che io ti amo gesù gli disse abbi cura delle mie pecore gli chiese per la terza volta e gli chiese per la terza volta simone di giona mi ami tu pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto mi ami tu e gli rispose signore tu sai ogni cosa tu sai che io ti amo gesù gli disse pasci le mie pecore andate al versetto 20 or pietro voltato si vide che li seguiva il discepolo che gesù amava quello che durante la santa scena si era anche posato sul petto di gesù e aveva chiesto signore chi è colui che ti tradisce al vederlo pietro disse a gesù signore e di costui che ne sarà gesù gli rispose se voglio che lui rimanga finché io venga che te ne importa tu seguimi a me il signore gesù ci ha lasciato il consolatore perché ci convinca di peccato perché ci consoli perché elargisca i suoi doni alla chiesa perché compia dei miracoli in mezzo a noi e perché adempia al ma al grande processo di trasformazione né che ognuno di noi deve subire o deve ricevere o in qualche modo deve fare deve accettare che sia così la quando il signore ci ha chiamati gloria a lui ha deciso di portare di iniziare un'opera nella tua vita quando ti ha chiamato e poi di portarla a termine con il tempo quindi ha dato ha dato la chiesa ha dato i ministeri ha dato i servi ha dato tutto un sistema per far sì che la chiesa che i fedeli siano preparati per l'opera del ministerio vengono edificati crescano all'altezza del suo figliolo Gesù Cristo quindi il signore ti vede capace di crescere a una grande altezza tu puoi vederti con i tuoi limiti con i tuoi complessi con le tue fragilità ti vedi piccolo ti vedi magari incapace ma dia una grande fiducia in te è incredibile la fiducia che Dio ha avuto in me e in te è una cosa straordinaria ed è qualcosa fratelli e sorelle che da parte nostra merita l'impegno più profondo più attento a quest'opera che lo Spirito Santo vuole fare nella nostra vita e soprattutto nella vita di voi nella vita vostra dovete pensare che più venite lavorati più diventate un vaso onore in una casa ci sono vasi a onore e vasi a disonore io penso che nessuno questa mattina vorrebbe essere un vaso a disonore è vero? nessuno fratelli e sorelle ma tutti quanti noi vogliamo essere un vaso a onore atto per essere per servire il signore servire il signore nella maniera più normale non andate lontano con la mente servire Dio servire Dio significa applicare i suoi principi nella vita normale che noi abbiamo nei rapporti della quotidianità dove viviamo con la famiglia nel lavoro quando ci alziamo il rapporto con la tv col computer col pc con l'ipad con l'iphone questo è il rapporto il cristiano cambia i suoi rapporti perché dentro permeato della grazia di Dio viene viene trasformato e quindi a rapporti diversi a risposte diverse a parole diverse questo processo di trasformazione noi lo vediamo nella maniera più chiara nell'apostolo pietro davide fu trasformato tutti sono stati trasformati ma pietro riceve proprio nei vangeli si scorre il tema di questa trasformazione nel primo versetto che ho letto il signore ha un messaggio particolare che deve pervenire a pietro in marco 16 tre donne si recono al sepolcro maria madre di giacomo maria maddalena dal quale la scrittura dice dal quale il signore è stata liberata da sette demoni e salome dice la scrittura queste tre donne si recono al sepolcro e trovano un angelo un angelo che ha un messaggio chiaramente l'angelo manda il messaggio che Gesù che il signore gli ha detto di dare per definizione angelo significa messaggero va bene quindi ha un messaggio per queste tre il che ci fa sempre sperare guardate fratelli che come il signore non lascia la sua chiesa senza indicazioni così non lascerà te senza indicazioni d'accordo la scrittura è chiara bisogna solo applicarla alla nostra vita allora l'angelo gli dà un messaggio particolare è come se tu avessi bisogno di un sms particolare dovete pensare che pietro è distrutto pietro è distrutto per tre volte ha disconosciuto gesù pietro non ha peccato nel senso più comune della parola non ha mentito non ha non ha tradito sua moglie non ha rubato no pietro è un uomo integro retto che non avrebbe mai fatto qualcosa del genere che per lui il solo mettere in dubbio di gettare la rete aveva fatto in modo che dicesse signore di partiti da me uomo peccatore si era sentito peccatore perché aveva messo in dubbio quindi lo standard di pietro uomo pescatore di umili origini normale è uno standard alto retto esistono questi uomini e queste donne io li ho conosciuti che non fanno parte ancora del popolo di dio ma che dentro il signore ha messo un altare di rettitudine va bene che sono retti sia nella società sia nella famiglia sono retti dappertutto non hanno una rettitudine parziale sono retti sono persone oneste è vero che di cui il signore si serve nella società a loro loro malgrado e che in effetti quando arrivano al contatto con il signore trovano colui che è il più retto di tutti Gesù Cristo perché oltre alla rettitudine Gesù unisce rettitudine e misericordia ora Pietro è distrutto è completamente avvilito a non immagina non immagina neanche che il signore chi rivolga la parola non se l'immagina ormai ho talmente sbagliato io ero un po il leader di questi undici la comandavo io qua è vero anche se mi aveva ripreso vattene da me tu mi sei di scandalo vattene da me satana anche se avevo fatto degli errori ma il signore aveva un occhio particolare mi portava con Giacomo e Giovanni a casa di Giairo della figlia mi portava sul monte io sapevo di essere un poco friend con un amico con Gesù è vero è come a volte ognuno di noi può sentirsi ma il signore è più mio non vuole bene vuole bene più a me che a te ci vuole bene uguale poi diciamo poi dentro sentiamo ma il signore a me è speciale è vero a volte il signore è come è un è come un padre che fa sentire che vuole bene a tutti i figli più degli altri ma li vuole bene tutti allo stesso modo è così è così allora pietro è completamente distrutto la sua sicurezza il suo modo di essere il signore la l'ha dissolto come profeta perché Gesù era anche profeta ha distrutto era venuto per svellere ma anche per costruire dice quando viene chiamato geramia io ti ho chiamato a svellere ma anche a costruire un profeta non svelle solamente ma costruisce anche un profeta che rompe sempre quanti ne trovate che rompono fratelli quanti ne trovate che distruggono ogni idea ogni azione ogni progetto tutti parlano male di tutto ma costruire costa è un impegno costruire allora a non si aspetta proprio niente pietro ma il signore che ha un progetto per pietro perché gliel'ha detto già dal primo giorno alzati tu sarai pescatore di uomini non viene meno a quel progetto e allora l'angelo dirà andate ad avvisare i suoi discepoli ed anche a pietro perché sa che pietro è nella condizione peggiore di tutti quindi quando sta in una condizione peggiore di tutti il signore non si dimentica non ti mette nella nel gruppo generale andate a dire ai discepoli e a pietro pietro quando arrivano le donne non lo dice la scrittura guarda l'angelo ci ha detto di dire ai discepoli è a te pietro a un messaggio per me comincia a prendere coraggio ma il signore allora è come se stamattina tu sentissi una parola più forte per te un'unzione più forte per te ma allora il signore mi pensa ma allora non si è dimenticato di me no non si è la memoria di dio è straordinaria non si dimentica nessuno non si dimentica e quando poi appare quando poi appare quando vanno a pescare in giovanni 21 i discepoli vanno a pescare non prendono niente il signore dice buttate al lato destro giovanni intuisce il signore pietro si tuffa insomma arrivano nessuno parla gesù ha già pesci e pane sul fuoco il signore si rivolge a pietro innanzitutto comprendiamo che si fanno una passeggiata perché dopo vedono che giovanni li segue quindi si fanno una passeggiata gesù e pietro ma non vi sembra una scena bellissima gesù che risorto che si fa una passeggiata con con un uomo ma non è incredibile fratelli vedere che come il figliolo di dio continua a venire incontro a te continua a venire incontro a noi come non si stanca dei nostri errori e continua sentite fratelli gesù è ha una 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 forza una capacità una fiducia in noi che è qualcosa di straordinario se fosse stato per me mi sarei tirato indietro già mille volte ma è stato lui che ogni volta ci ha incoraggiati quante volte fratelli abbiamo pensato sorelle mamma mia non ce la faccio non vado in chiesa oppure mo la trascuri un po la bibbia quante volte vi è sembrato proprio di gettare giù le braccia e poi per un miracolo che non sapete neanche spiegare che non so neanche spiegare io ci sentiamo di nuovo incoraggiati ma dove la prendi questa forza non nelle persone ma in Gesù Cristo le persone che forza ti possono dare è sempre in Gesù che tu trovi la forza la fedeltà lo stimolo la voglia di dire ma signore l'hai fatto tu per me e meriti che io lo faccia per te allora dopo che ebbero mangiato nessuno parlava tutti in silenzio e che vuoi parlare davanti al signore risorto è tale la meraviglia di vedere Gesù risorti in mezzo a loro che non si parla si sta in silenzio e allora dice fa una domanda guardate ripeterà tre volte Simone di Giona dopo ricordatemelo ve lo voglio spiegare perché è quello che ieri riflettevo e Gesù mette subito un una condizione a Pietro Pietro tu mi ami più di costoro guardate la domanda può sembrare semplice ma provate a dire con sincerità alla persona più cara che avete o al vostro fidanzato alla fidanzata che pensa che debba essere amato a essere amato più di tutti io amo Gesù più di te provatelo a dire con verità non con superficialità o a qualche sorella io ti amo ma io amo Gesù più di te è un fare sentire la persona in secondo piano e mettere al posto giusto secondo l'ordine che Gesù vuole però è una verità così forte che se è detta con con convinzione fa male a te che lo dici e a te che risponde io amo Gesù più di te amo Gesù più di te chiaramente questa affermazione prevede che le azioni che seguono siano dello stesso calibro ossia al primo posto io metto il Signore le mie azioni sono verso di lui prima di te perché dal mio rapporto con lui dipende il mio rapporto con te Gesù non cambierà mai l'ordine che c'è scritto nella sua parola non 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 può soprassiedere a quello che è scritto nella sua parola perché il cielo e la terra passeranno ma la sua parola non passerà mai non ci sono sconti non ci alternative non ci sono altre altri credi non ci sono altre cerimonie quello che è scritto nella parola quello è l'uomo può aggiungere quello che vuole le persone possono aggiungere ma dio anche se una persona aggiunge qualcosa fosse anche il più grande teologo che sbaglia il Signore non ne tiene conto di è Dio e quello che lui ha detto quello rimane ora mi ami più di costoro Pietro risponde innanzitutto come si deve sentire Pietro quando si fa una passeggiata dopo che dopo che è stato dopo che ha pianto amaramente ha incontrato gli occhi di Gesù come si sente si sente innanzitutto completamente arreso a lui ma trova un piacere a stare con lui non si sente più un po il papà di Gesù non si sente un po colui che ne sa della pesca ma si sente veramente come un cucciolotto vicino al Signore sta vicino a lui è vero e allora dice mi ami tu Signore tu lo sai che io tamo ma Gesù lo sa veramente che lui l'ha ma lo vuole sentire lo vuole sentire non ci ha dato la parola per non per solo per parlare di tante cose nella vita anche importanti di tante situazioni ma ci ha dato la parola per dire Signore io ti amo vuole sentirlo dire dalla sua sposa vuole avere questa relazione vuole sentire che noi in preghiera gli diciamo Signore io ti amo voglio stare con te io ho bisogno di te e vuole che questo ti amo man mano assumi diventi solido nella nostra vita diventi una realtà costante nella nostra vita allora Pietro Simone di Giona mi ami tu certo Signore tu lo sai la terza volta Simone di Giona fratelli e sorelle perché non lo chiama Pietro perché Simone di Giona cercherò di dare una risposta che quella che ho ricevuto io e quella che vi trasmetto vi ricordate in Matteo 16 tu sei beato Simone figlio di Giona giusto ripete Simone figlio di Giona Simone figlio di Giona cioè Pietro viene edificato da Gesù viene 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 gli viene restituita la fierezza attraverso il doppio nome c'è che lo di spiegarlo praticamente se qualcuno dice se è una persona importante dice Riccardo figlio di Giuseppe ma mio padre mio padre certamente mio padre questo fatto mi fa sentire bene a me ci fa sentire bene se io dicesse a qualcuno di voi non lo so Antonio figlio di Gianni Gioele figlio di Riccardo Dario figlio di Peppe come si sente il figlio quando è legato al padre è vero si sente importante allora gli sta restituendo è qualcosa che all'uomo alle persone agli uomini fa piacere figlio di come dire io riconosco la tua nascita la tua discendenza e sta restituendo a Pietro la fierezza che aveva perso nel suo disconoscimento verso Gesù lo comprendete questo e voglio dire a tutti i padri presenti a tutti gli uomini che hanno figli fai sì che tuo figlio possa dire fieramente sono figlio di è bello vero papà tutti i papà presenti i vostri figli devono poter sentire quando qualcuno dice figlio di e metti il nome tuo di sentire sotto un sostegno amè perché Giona doveva essere il nome significa colomba profeta Giona doveva essere un uomo che Gesù conosceva magari non so se stava ancora in vita all'epoca di Pietro il Signore ma Gesù per dire Simone figlio di Giona è come se recupera Pietro totalmente lo afferrate questo concetto come è importante e come è importante il ruolo di fierezza di dignità di onestà di verità che un padre deve avere per dare al figlio la fierezza del sostegno a me dice così la parola di Dio e poi dice una cosa a Pietro ora Pietro non si aspetta niente se gli avesse detto tu devi lavare i bagni dei 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 discepoli Pietro l'avrebbe fatto no è giusto perché lui non si aspetta niente basci le mie pecore fratelli quello che Gesù fa noi non l'avremmo fatto prende a Pietro e lo rimette nel posto dove gli compete stare lui l'ha chiamato la deve stare ha avuto quel momento di disconoscimento Pietro ricordatevi non ha peccato nel senso della legge di Dio non ha infranto la legge del Signore perché lui aveva fatto una cosa vi ricordate quando l'ha disconosciuto diceva io non conosco quell'uomo ed è vero sapete perché si era portato la spada nel nel Getsemani e tagliò l'orecchio a Marco perché lui si era fatto un'idea di Gesù tutta sua e come ognuno di voi si facesse un'idea di Gesù tutta sua quello il Signore è fatto così è fatto colì e ci facciamo un'idea di Gesù secondo i nostri bisogni perché lui vedeva Gesù come un condottiero militare delle schiere di Israele come un generale non lo vedeva come agnello e c'è l'erroreo che come Pietro si è fatto un'idea di Gesù te la potresti fare anche tu non ti fare nessuna idea di Gesù Gesù è il Signore e non si piega alle tue idee e anche se sapeva che Pietro portava la spada non gliela faceva lasciare aspettò il momento per dire posa la spada chi di spada perisce di spada felice di spada perisce forse qualcuno di voi viene ancora con la sua spada di violenza qui in chiesa o forse sei venuto con le tue ragioni viene il momento in cui il Signore ti dirà lasciala lasciala la spada lasciala il tuo senso di giustizia perché fai solo male devi seguire me perché la mia giustizia è qualcosa di estremamente diverso dalla tua non è vendetta allora è a Pietro da un'indicazione che da tutti i servi e che da a tutti i genitori pasci le mie pecore sono sue voi siete di Gesù lo dice la parola di Dio tu sei di Gesù hai il diritto di sentirti suo, sua pasci le mie pecore è incredibile la proprietà che Gesù ha su di noi è mia, Anna è mia è bello? Riccardo è mio vi piace sentire? Marta è mia è mia, è incredibile, mia cioè è un diritto di proprietà assoluto è di cui noi ci dobbiamo solo giovare e gioire di questo detto questo voglio terminare allora Pietro vede che Giovanni li sta seguendo Giovanni, fratelli e sorelle è il tipo che non ha bisogno che qualcuno gli si dica qualcosa lo fa e basta ci sono persone a cui bisogna dire e persone a cui non bisogna dire persone in cui vengono mosse dallo Spirito Santo altre che hanno bisogno che qualcuno glielo dica siamo tutti in qualche modo diversi l'uno dall'altro ora Giovanni che ha Giovanni è un contemplatore Giovanni non ha bisogno di entrare nel sepolcro per comprendere che Gesù è il risorto vede i pannolini piegati dice solo Gesù li piega così ha capito da Giovanni è uno che coglie i più piccoli aspetti vede poche cose già capisce ci sono persone che basta un niente già capiscono e altri invece che come Pietro devono mettere il volto nella tomba non fa niente fratelli perché tutti siamo portati alla stessa comprensione poi perché Giovanni capisce che è risorto dai pannolini Pietro lo capisce ma tutti hanno capito che Gesù è risorto il punto è questo capite il messaggio di Gesù ora Pietro vede che Giovanni lo segue e dice che sarà di lui Pietro ama Giovanni sono amici di pesca amici di paese è cresciuto col fratello grande Giacomo Pietro e Giacomo dice che sarà di lui e allora il Signore gli deve subito lo deve aggiustare subito dice senti Pietro ma se io lo voglio far rimanere fino a quando io torno come a dire ma se io voglio fare di lui quello che tu di che cosa ti preoccupi tu segui me a volte ci preoccupiamo di quelli che stanno dietro a fianco e perdiamo di vista di seguire il Signore ma smettila di guardare a destra avanti e dietro segui Gesù Cristo amè perché per guardare a destra e a sinistra perdi pure tu perdi il Maestro la diciamo una parola di incoraggiamento la diciamo una parola di correzione di esortazione ma il tuo compito definito è seguire Gesù è seguire il Signore Gesù solo il Signore Gesù prima il Signore Gesù assoluto il Signore Gesù sei sposato devi condividere con tua moglie con tuo marito ma devi seguire prima Gesù sempre prima il Signore hai figli devi seguire sempre prima il Signore Gesù sei fidanzato prima il Signore prima il Signore prima il Signore Gesù non lo dico io lo dice lui direttamente tu seguimi ma hai aperto qualcuno ma non ti preoccupare non ti preoccupare tu seguimi quello che c'è da raccogliere lo raccolgo io lui è il grande Redentore noi non possiamo salvare gli altri possiamo annunziare la salvezza agli altri non possiamo redimere agli altri non possiamo convincere di peccato possiamo dire la parola giusta se è il momento giusto ma sarà Gesù a fare l'opera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti